La gioia di una nascita può trasformarsi nel dramma della malattia, soprattutto quando si è soli e persi, senza via d'uscita. La Fondazione Viva Ale accompagna i pazienti affetti da malformazioni vascolari ad affrontare questa rara patologia nel migliore dei modi. Aiuta anche tu, i bambini e le loro famiglie, ad uscire dal labirinto della solitudine con il sorriso. Visita il sito www.fondazionevivaale.org Grazie a tutti.